C'è il cervello in giostra, c'è il cervello in giostra, c'è il cervello in giostra Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Ragazzi, ieri la Rockstar ha fatto uscire queste nuove gare, gara al bersaglio Che è più o meno come una competizione, ma comunque ho visto un po' C'è il trailer, ho visto un po' qualche video, sono abbastanza carine Ci può stare Praticamente ne hanno rilasciate 7 e in cosa consistono queste gare? Sono comunque classiche gare che bisogna comunque arrivare al traguardo, fare la prima posizione eccetera eccetera Ma siamo in due sullo stesso veicolo Uno pensa a guidare, l'altro che praticamente sta alla mitagliatrice deve pensare a sparare i bersagli che si trovano nella mappa Sono dei bersagli tipo le freccette e più i bersagli sono piccoli e il tizio che spara riesce a beccare il centro E più punti si fanno chiaramente Poi a ogni giro si cambia, quindi io sto guidando, poi devo andare io alla mitagliatrice e viceversa È carina la cosa, sarà molto movimentata, io direi di fare la prima perché comunque ci sono nuovi veicoli Il Cara Cara che non è spettacolare Ditemi ragazzi se avete provato e lasciate un bel mi piace a questo video per supportare questo video Ve ne sarei veramente grato E abbiamo una schermata bianca Ok ragazzi, scegliamo il veicolo e ci hanno affidato questo compagno che si chiama Zigoman Bene Che poi è una cosa da fare in cuffia perché praticamente tu gli dici spara lì, spara lì, vabbè Comunque io sono a guidare Squadra pronta a giocare Chiaramente puoi scegliere il compagno oppure metti qualsiasi Ho messo qualsiasi, non sono manco lost perché tutti sanno a giocare a seggare E niente, ho messo i colori clui della macchina, sono io a guidare, spero di fare tutto bene E ci sono le collisioni, questo è un grandissimo problema della vita Comunque Partiamo, 3, 2, 1, via Ok, vedete raga, il mitragliere deve praticamente colpire i bersalli che ancora non si vedono Siamo con Cara Cara e noi comunque dobbiamo cercare di guidare, superare il primo Vedete raga, devono sparare i bersalli ma non lo sta facendo Lo sta facendo a mozzo praticamente E se prendono magari il giallo, il centro o quelli piccoli di là sopra, facciamo due punti Vai, spara, bomberino, spara, spara Ma perché sto guidando senza mappa? Perché io non ho messo la mappa giustamente Oh, prima posizione, mi stanno scannando, incredibile No ragazzi, il problema è che non c'ho... oddio, la gente che già sta acquittando, cioè è vero, incredibile Non c'ho la mappa perché l'altra volta ho fatto la miniatura e quindi l'ho levata Mi sono scordato di metterla, questo è un grandissimo problema, molto grande Perché se i checkpoint sono a destra e a sinistra, me la prendo nel Caprancy Però per fortuna, stiamo vincendo noi Dai Perfetto Perfetto Cerchiamo di capire bene i checkpoint che ci dicono di andare a destra e a sinistra Così me la vedo Senza mappa ragazzi, sfide estreme Spacca tutto Amore mio, spacca tutto Vai, vai Zigoman, l'uomo degli zigomi Vai, ragazzi, non è male Poi, quando farò una live su PS4 C'è la... ciao Ovviamente non possiamo distruggere le macchine degli altri se non sbaglio Perché non è una gara GTA, ovviamente Però quella scia, quel bastardo, ci stava prendendo Non ci siamo proprio Vai che dovevamo fare un sacco di punti Spacca tutto Consuma le munizioni Comunque adesso c'è il secondo giro, quindi dovrei sparare io, giusto? Bu Sì, sono io Sono io Corri, 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 corri Oh, sei fermato Raga, no Raga, non cammina Sei fermato Eh, no, questo non va bene Dai, dai Perché devo dire la gente demente in squadra? Ma è incredibile Più... sono piccoli, più punti si fanno Oddio Oh Aiuto Cioè la sensibilità è un po' troppo alta Ta, ta, ta Quello là ci ha superato Perché questo demente qua non accelerava E ovviamente Dovevamo perdere perché la gente che si squadra Non è capace di fare steggare Oddio, l'ho preso lo stesso Incredibile Raga, stiamo spaccando tutto con i punti Vai, vai Che poi non so se spaccando distruggiamo anche agli altri versali Non ho capito sinceramente Se gli altri vedono i miei versali distrutti oppure sono diversi per tutti Dai Dai, dai Dai È un punto lì Ovviamente che posso andare a centra Il giallo Dai Perfetto Tac 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 Oddio La sopra è quella impossibile da prendere Troppo sottile Dai Non è male Non è male Almeno è una cosa diversa Raga Una Una nuova modalità Abbastanza carina Movimentata E bisogna essere precisi Vai Sette punti Dai Perfetto Ditemi se vi piace una gara così A parte che Il lavoro lo fa tutto quello che chiaramente spara Perché Poi per guidare non è un problema A parte quelli che ti speronano Però ovviamente Questo tizio qua Ecco, vedete Seconda posizione praticamente abbiamo fatto Perché questo qua prima è stato fermo Vai Ci può stare Ci può assolutamente stare Non è male Seconda posizione Purtroppo Punti 463 Io non so se abbiamo fatto più punti degli altri Voglio proprio vedere Voglio proprio vedere In soldi 5000 Ah raga Gli altri sono quittati tutti Avevano due squadre praticamente Sono quittati tutti Hanno fatto più punti di poco 510 463 E vabbè Ok raga Siamo tanti Qua sarà un casino Perché qua si spingono tutte adesso Perché ovviamente Il tizio non mette senza collisioni Ora sarà un casino Perché tutti mi verranno addosso Ok Limo con torretta Colore crew mia Perfetto Squadra 1 Allora io devo guidare adesso Come prima No Sempre con zigoman Cioè io seleziono un altro E mi capita questo qua insieme Incredibile E meno male che do guidare io all'inizio Se no rimaneva fermo All'inizio partita Metto colore della mia crew E mi mette l'altro colore Perfetto GTA sei grandissimo proprio Sarà un bel problema 3 2 1 Via Perfetto No vabbè ma è brutta sta cosa Cioè raga spara e mi trima la visuale Ci devo guidare con la visuale che Scusami Ma l'avevo messo io che so pilota Ma l'avevo messo io che so pilota Vabbè Sono io che sto sparando comunque Se l'avete capito Non mi ero manco accorto io Vabbè Comunque Iniziamo a fare punti Dai Allora Ovviamente se sparo agli altri Non succede niente Il problema è che mi trema tutto E dà fastidio Dai Spacca Stacca 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 Ci stanno tracciando Allora Tac Questo lo prendo 9 punti Vai Gira gira Questo non sa guidare Raga Mannaccia miseria Allora Questo percorso È leggermente più difficile Per il motivo che No non ho preso quello 5 punti 1 punto 5 punti Perfetto Perfetto Gira 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 Questo lo prendiamo Quello là Dai raga li stiamo prendendo tutti Stiamo andando abbastanza bene Dai Uh vedi quest'altro qua Sgamo Dove stava messo Tac Tac No Oh Oh Mamma mia Che casino sto combinando Tac Dai Vado raga Ma vi verrà il mal di stomaco Ma perché quittano C'era Quittano le persone Guardate quanti ce ne sono andati Incredibile Cioè Iniziano a vedere che stanno perdendo E quittano Ma veramente Sportività 0 Oh No Dai Perfetto 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 Ovviamente Quando prendo un bersaglio Che lo prendo dall'esterno Faccio meno punti Però non è che posso Stottare a sparare Che è un casino Oh vedete quello là sopra 6 punti Dai Questo qui Questo Quest'altro Perfetto Tac 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 Dai raga Stiamo andando abbastanza bene Per il fatto dei punti Questo qua Non vedo che sia molto capace A guidare Però Secondo giro Secondo giro Sto guidando io Ora Ciccio pasticcio Spara eh Vai 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 È capace È capace Ora cerchiamo di guidare Dai prendili quelli Non li prende come li prendo io Cerchiamo adesso Di Superare qualcuno Siamo terzi Siamo terzi C'è la scia Quindi possiamo sfruttare questa cosa Vedi vedi Dai 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 Cerchiamo di guidare Nel miglior modo possibile Spara Guardate quanti non ne prende Raga incredibile Minchia questo qua Mamma mia L'ha derapata proprio Raga cerchiamo Io so guidare Leggermente meglio di questo Quindi potrei superare Questo qua Poi la limo contoretta Sta frenando E sono veramente Euforico Vai 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 Minchia Poi c'è l'aiuto Giocatore in cuda Quindi si superano tutti Però raga Non è capace A prendere i cussi Guardate quanti non ne prende Mamma mia Prima posizione Di cattiveria proprio Mamma Crepa Crepa Rimani di bloccato lì A sbandare Bastardo Si deve mettere a spingere Vai E questa ce la facciamo noi Staggara ma Ho detto io Che devo fare come posso Vai Voglio mi ha rallentato troppo Però Vai vai Accorciamo la curva Perfetto Però questo qua Veramente sta mancando Prima posizione Ma sta mancando Tanti bersagli Io non ho presi assai Vai L'abbiamo conclusa Prima posizione Eravamo anche Verso l'ultima posizione A parte che sono quittate le persone Però Sono riuscito a Recuperare tutti E superare E fare prima posizione Almeno questo Sono contento Tre squadre siamo Prima ne avevamo Sei Perché sono quittate due squadre La gente vede che perde E quitta istantaneamente Bene Comunque Vediamo un attimo Come va a finire Sicuramente Nel secondo giro Abbiamo fatto pochissimi punti Perché questo non è capace A sparare Io ne ho sparati tantissimi Infatti L'ha venuto il vomito Per quante volte ho girato La visuale Però vediamo un attimo adesso Addirittura Ultimo Mamma mia Che schifo Ho fatto il primo post Abbiamo fatto Quasi ultimi Praticamente Lasciamo stare Questo sfacelo Purtroppo Purtroppo questo Non era capace A sparare i versali Comunque Per questo video è tutto La modalità Non è brutta Anzi Abbastanza carina Vi do a lasciare un bel mi piace Iscrivetevi al canale Condividete questo video A vostri amici Noi ci becchiamo ragazzoli Al prossimo video E ditemi Se l'avete provato anche voi Bella Noi ci becchiamo